Easy Go Ho trovato i social con un programma di riconoscimento facciale e guarda cosa ho scoperto Brillante, come ti chiami? Philip Chang Ok, Philip, troverò Carlos e se viene a sapere di altre sparizioni avvertimi subito Ok, devo trovare il posto che... Si comportano come gli studenti alla festa di Halloween, Martin Lee deve averli corrotti Cosa è successo? Andava tutto bene, poi... Una rabbia atroce, non riuscivo più a ragionare Ora è finita, ma eviterei internet, almeno per qualche tempo Spiderman, il mio programma ha individuato altre persone che si trovavano alla festa E potrebbero essere... è un'assistente di biochimica, Ethan Olbright Oggi non si è presentato a lezione Il mio software l'ha riconosciuto in una foto, ma nello scatto successivo sembra sparito Non importa, proverò comunque a cercare quel posto, grazie La foto... Il posto è questo, ma gli studenti corrotti hanno già tagliato la corda Trovati, sistemiamo la questione Stavo bevendo un cappuccino, ripensando a un episodio, una rapina che ho subito Ma quando ho visto quella folla, qualcosa è come scattato dentro di me Starai meglio, vedrai Ma è meglio se passi al decaffeinato Attenzione, ri... Spider-Man, altro studente scomparso L'ultimo caso riguarda Steve Hopkins, ma c'è di più Di recente una banda di tombstone si è stabilita nel suo quartiere Steve detestava quei balordi, ma aveva troppa paura per affrontarli Se è corrotto potrebbe scaricare la sua rabbia su di loro e rischiare una brutta fine Steve ha postato quella foto prima di sparire nel nulla Non ho trovato immagini più recenti Sembrerebbe l'Upper West Side Il posto è questo, vicino a quegli alberi Ok, diamo una lezione allo studentello Quel ragazzo non ne uscirà mai vivo Prima di liberarlo dalla corruzione devo salvare Dio mio, che cosa ho fatto? Ho sempre odiato quei balordi, ma stasera volevo ucciderli senza pietà Non posso neanche pensarci Tranquillo, non è stata colpa tua Spiderman, ho trovato altri studenti scomparsi Il club di dibattito aveva una riunione, ma non si è presentato nessuno Un attacco coordinato, di male in peggio Dove li hanno visti l'ultima volta? Il presidente del club, Harold, è tra le foto di un turista In questa foto compare il ponte di Brooklyn Si trova a sud-est dell'università Il camion perde benzina Si esplode, addio quartiere Ogni colpo al camion Grazie Sapevo di comportarmi da folle, eppure non riuscivo a fermarmi Succede a tutti gli studenti di college, starai bene Spiderman Spiderman, siamo in piena crisi La squadra di football è scomparsa dopo una trasferta Hanno trovato il pullman abbandonato Squadra, tifosi, staff Ormai lì ha un esercito Indizi? Qualcuno ha notato il quarterback, Brad Davis E ha postato una foto Un attimo Sembrano lunghi tra medici Se non risolvo la situazione, qualcuno ci rimetterà la pelle Io... Io... Ero come impazzito E' già accaduto ad altri Per fortuna i medici li hanno visitati senza riscontrare effetti a lungo termine Ti ringrazio Non so come sdebitarmi Vincete contro i Wildcats e siamo pari Ce l'hai fatta, hai salvato tutti gli studenti E bravo Spidey Spero che ora tutto torni come prima Ah, mi manca la normalità Come darti torto, amico Grazie Grazie